Oggi siamo a MX Partinico, il mio obiettivo di oggi è quello di migliorare la posizione di guida in uscita di curva. Spero che ciò che ho imparato possa essere utile anche per te e se conosci qualche tecnica particolare scrivila nei commenti così sia io che tutti quelli che guarderanno questi video potranno giovarne. A 100 iscritti farò un video che sono sicuro ti interesserà, quindi iscriviti al canale youtube e per non perderti nessun contenuto seguimi su tutti i social che trovi in descrizione. Quindi vlog di una giornata in moto molto produttiva, purtroppo c'era un vento assurdo. Ma ciò è stato molto positivo, perché durante la settimana mi sono concentrato sul guardare la posizione in uscita di curva dei piloti del mondiale. Dopo vi spiegherò meglio cosa intendo. E non potendo andare nella pista da gross mi sono concentrato nell'emularli nel fettucciato d'enduro. Lì un giro dura 6 minuti, quindi o impari o impari. Così facendo ho imparato a controllare meglio la moto in curva quando c'è poca aderenza. In più ho ridotto parecchio l'hunk pump perché tramite queste tecniche la potenza della moto non viene scaricata solamente sugli avambracci ma su gruppi muscolari più grandi come spalle, trapezzi, dorsali, glutei, e tutte le gambe alla fine. Vedi come si piegano in avanti e pressano fortissimo le pedane? Ecco, come potrei ricordare, io settimana scorsa avevo già cominciato a pressare per bene le pedane nella giusta posizione, però così facendo rendi la moto 100 volte più reattiva, quindi entri in curva, acceleri e la moto torna subito nella posizione corretta appunto per poter dare tutto il gas. Però così facendo ti dà una sorta di effetto fionda verso l'esterno e quindi rischi di cadere se non sei pronto. E mi sono chiesto, ma perché non riesco a tenere la moto come fanno i pro? E perché quando spalanco totalmente il gas la moto tende a scappare via e devo tenerla forte con le mani? Finalmente qui è arrivato in aiuto il mio sensei, mio padre, che mi ha detto, ti devi buttare in avanti e questa è la soluzione. Ok, mio padre non parla così e me l'ha spiegato anche bene, però come vedete dal video del pilota... Quando non hai un appoggio o comunque il terreno duro o comunque hai poca trazione, devi cercare di sfruttare appunto le gambe per pressare bene le pedane e inclinare il busto in avanti quasi come se fossi in partenza aiuta perché così avrai la giusta posizione in moto, in più scaricherai la potenza della moto totalmente sui muscoli che ti ho elencato prima. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. I tipi di tracciato, ma dove c'erano magari più appoggi stavo un po' più centrale. Quindi per questa cosa dipende dalla situazione. Il video finisce qui. Scrivimi quali sono le tecniche che hanno rivoluzionato la tua guida in moto e ti ricordo di iscriverti al canale YouTube e di iscrivermi su tutti i social che trovi in descrizione. Ci vediamo lunedì con il video sulle off-road news. Alla prossima!